Dal Goodison Park di Liverpool al Vito Curlo di Fasano, il passo è relativamente breve con la tecnologia. Una mail inviata nella giornata di ieri dal content producer dei Toffis, Paul McManara, all'addetto stampa Biancazzurro Gerrimoio, ha creato una delle più romantiche scene di calcio degli ultimi anni. Dalla Premier League inglese al girone H di Serie D, un filo quasi inessensibile che testimonia come il calcio sia un linguaggio universale. E' bello vedere Dennis giocare ancora e fare bene, scrive Leverton. Vorremmo parlare con lui per un'intervista positiva. Ovviamente è ricca di gratitudine, immaginiamo la risposta dell'addetto alla comunicazione del club di Franco D'Amico. Siamo felici di poter collaborare, l'invito ovviamente accettato dal Fasano e chissà che la prossima estate non possa essere anche l'occasione di un abbraccio vero e non solo virtuale fra le due società per una prestigiosa amichevole quasi senza precedenti. Una botta di energia anche per Stracqualursi che ora punta a regalarsi il primo gol con la maglia del Fasano è l'occasione che gli si presenta davanti il giorno dell'Epifania contro l'ex Taranto e di quella da cogliere al volo.